Ciao ragazzi e bentornati a Gerus si fa seriale. Oggi parliamo di Penny Dreadful, una serie composta da tre stagioni. Stagioni attualmente concluse, quindi una serie che ha concluso il suo ciclo. E senza perderci in ulteriori convenevoli, entriamo subito nei dettagli e nelle motivazioni che dovrebbero spingervi a perdere un giorno e tre ore della vostra vita che non torneranno mai più per vedere Penny Dreadful. Punto numero uno, con una fotografia sbalorditiva, una scenografia, una cura per i dettagli artistici, maniacale e un casting davvero di altissimo livello, fra tutti ovviamente spicca la bravissima e talentosissima e tutto ciò che inissima potrebbe finire Eva Green. Tutto questo contribuisce a renderci un racconto gotico horror davvero dai toni stupendi e davvero visivamente emozionante e coinvolgente. E arriviamo al secondo punto. Voi non sapete quanto io apprezzi il mondo dei fumetti, soprattutto delle graphic novel. E forse non sapete nemmeno che Penny Dreadful è chiaramente ispirato a un'opera davvero ottima di Alan Moore, ossia La Lega degli Straordinari Gentlemen. Fumetto che per la prima volta ho avuto modo di conoscere grazie al consiglio di un amico e grazie Michele ancora oggi per avermi fatto conoscere questo splendido capolavoro, si potrebbe anche dire. Questo fumetto cosa fa? Mette insieme tanti dei personaggi principali delle novelle horror, diciamo così, del diciannovesimo secolo e ne fa una sorta di squadra di supereroi molto particolari. Da quest'assunto arriviamo subito al terzo punto per cui dovreste vedere Penny Dreadful, ossia i Penny Dreadful. Cosa sono i Penny Dreadful? E ho detto Penny Dreadful forse troppe volte, ma continueremo a ripetere Penny Dreadful perché ci piace ripetere le cose. Dicevamo, i Penny Dreadful erano delle uscite settimanali che costavano appunto un Penny e che per un Penny ti davano un po' di terrore, da cui il nome Penny Dreadful. Qual era l'obiettivo? Dare una lettura a basso costo per i lavoratori, una lettura da brividi, una lettura un po' particolare. Ed è anche grazie proprio ai Penny Dreadful che quindi questa letteratura è potuta diventare così famosa, riuscendo a consegnare al giorno d'oggi anche a lettori come me per esempio lavori di altissimo livello come appunto Dracula, come Frankenstein, come Dorian Gray e tanti altri se ne potrebbero dire. Tutti personaggi che tra l'altro confluiscono all'interno della lega degli straordinari gentlemen e quindi all'interno di Penny Dreadful. Altro punto che davvero potrebbe interessarci nell'analizzare questa serie sono i personaggi stessi. Avremo modo di incontrare personaggi come Frankenstein, personaggi come Dorian Gray, personaggi come Dracula, personaggi come Lupo Mannaro, insomma tanti di quei classici che hanno costituito la base su cui poggia l'horror anche attuale. Tutti questi personaggi sono perfettamente umani, sono perfettamente costruiti e hanno quindi un loro sapore, una loro consistenza che ci dà davvero molto in termini proprio di fascino e in termini di resa finale. Andando quindi ad incastrarsi perfettamente nella più ampia trama principale. Ed arriviamo quindi al nostro ultimo punto, le tematiche. Le tematiche sono molto affascinanti. La costruzione di tutti questi personaggi e di loro intrecciarsi all'interno di una trama più grande anche dandoci una ricostruzione dell'Inghilterra di quel periodo davvero coerente in cui l'oscurità di tutti questi personaggi sembra integrarsi ottimamente con l'oscurità della società industriale di quel periodo. Approfittando quindi di queste tematiche horror per narrarci dei temi ben più profondi legati alle oscurità della nostra società. In coda di analisi giusto una piccola nota che non considero nemmeno negativa ai fini dell'economia generica di questo prodotto. Ossia in tutte e tre le stagioni si assiste sul finale ad una frettolosità nel portare e nel chiudere gli eventi conclusivi, gli scontri più importanti diciamo con i nemici che di stagione in stagione i nostri personaggi principali dovranno affrontare. Come dicevo questo non pesa complessivamente troppo e riesce quindi comunque a realizzarci, a consegnarci una serie di ottimo livello che io sinceramente mi sento di consigliarvi a cuor leggero. Soprattutto qualora voi amiate le atmosfere appunto horror o oscure che comunque sia ben chiaro non vogliono mai essere davvero horror. Detto questo come sempre vi saluto e non temete a breve torneremo con i film che avete consigliato. Ciao ragazzi alla prossima e come sempre buona visione!